Musica Presidente Laghi, un giorno importante per l'ordine degli avvocati del Tribunale di Castrovilla? Certamente è un giorno molto importante, ma io penso non solo per l'ordine degli avvocati Castrovilla, di quanto per tutta la società civile. Oggi l'avvocatura castrovillarese consegna alla società civile, alla città di Castrovilla, al circondario del Tribunale di Castrovillari, un'infrastruttura fondamentale dal punto di vista culturale, un'aula ampia, grande, elegante, che potrà ospitare convegni, dibattiti e formare culture non solo giuridiche. Questa aula è un tassello di un impianto molto più grande che il nuovo Tribunale di Castrovillari, che ci riporta a una battaglia vinta e a un futuro, soprattutto, che evidentemente si presenta diverso. Certamente è un tassello di una struttura giudiziaria ormai molto importante e direi che proprio il tassello che mancava, vale a dire non è possibile che una grande struttura non ci sia un'aula dedicata alla convegnistica organizzata a tal fine. Difatti, voglio dire, non solo l'ordine degli avvocati, ma anche tutto il mondo giudiziario potrà utilizzare quest'aula e quindi fare di Castrovillari un punto di riferimento della cultura giuridica e non solo regionale. Un paio di giorni fa hanno giurato otto uditori giudiziari che hanno assunto le funzioni. Io spero che il Tribunale di Castrovillari presto potrà ulteriormente distinguersi sotto il profilo della produttività.